Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova lezione. Oggi voglio parlarvi di utilizzo di differenti meccaniche, quindi parleremo della Müller Technique e invece dell'utilizzo della tecnica e quindi della meccanica legata al polso. Voglio fare un po' una lezione che va anche a toccare dei punti storici, questo perché voglio andare un po' controcorrente quindi non approcciarmi alla Müller Technique e non farvi vedere la solita modalità che spesso possiamo trovare e che io sinceramente non ho trovato utile su di me e quindi vi do la mia personale opinione e cercherò di esporla dando anche dei tasselli storici. Allora, questo video e questa lezione servirà anche per comprendere al meglio i due video successivi e quindi i video due lezioni che tratteranno l'importanza dei movimenti e in particolare degli abstract quindi degli studi sull'approccio di Freddy Gruber e tant'è che dall'approccio di Freddy Gruber, quindi in realtà questa questione storica che vi dirò su Müller è nata proprio da una ricerca fatta in realtà volendo andare a cercare l'approccio di Freddy Gruber e poi sono arrivato appunto a parlare di Müller Bene, quindi partiamo subito Stanford Müller è un percussionista e quindi la Müller Technique è nata appunto da Müller che è un percussionista che nasce a fine 800, quindi intorno al 1890 e cosa fa all'interno del suo metodo appunto de Müller Method? Cerca di analizzare l'approccio tecnico dei percussionisti quindi in questo caso di chi suonava il tamburo rullante all'interno delle army bands, quindi delle marching band americane o meglio delle band appunto dell'esercito americano nel periodo della guerra di secessione, quindi del 1860, insomma 30 anni prima di lui Allora, innanzitutto vediamo il periodo storico in cui esce questa tecnica Müller Il metodo è stato scritto nel 1924, se non mi ricordo male, o 25 e qualche anno dopo è uscito, quindi diciamo negli anni 30 in un periodo dove l'America stava vivendo veramente un grandissimo periodo musicale legato alle dance band, allo swing, al jazz quindi insomma un periodo veramente super super fertile e da fare una prima analisi su che cosa? Sul fatto che Müller fondamentalmente insegnava a batteristi e quindi non necessariamente a percussionisti o chi si approcciava allo studio unico del tamburo rullante e tra tutti chi ricordiamo tra gli allievi di Müller Jim Chapin e Jim Krupa Allora, oltre a questi due viene nominato anche un certo Allan Peley e è un batterista, a quanto ho potuto leggere, veramente formidabile che non è poi uscito diciamo allo scoperto a causa di una malattia che ha avuto proprio in quegli anni ma appunto dove si parla proprio anche di lui e in particolare perché mi soffermo su Allan Peley perché lui fondamentalmente fa una critica a Müller e ne schematizza un po' il pensiero e dall'altra parte riceve anche un buon suggerimento da Jim Krupa tutte queste cose ovviamente le potete trovare su Wikipedia andandovela a cercare Allora, la prima è questa che schematizza il pensiero di Müller dicendo che Müller ha escogitato questo sistema per trasformare tre colpi con un solo movimento quindi al posto di tre movimenti e quindi tre colpi ha un solo movimento e se fate caso lo stesso Jim Chapin nel suo celebrissimo video dove parla di Müller fa proprio questo esempio qui quindi parte dai tre colpi fatti unicamente col polso e fa questo facendo poi vedere e questo però lo vedremo alla fine come diciamo nella parte dove analizziamo proprio il movimento allora quindi già di per sé vediamo come fondamentalmente questo pensiero di Allan Peley corrisponde con quello che viene poi fatto vedere da Jim Chapin seconda cosa la critica che Peley fa a Jim Chapin a Jim Chapin scusate a Müller ovvero sia che lui riteneva che chi suonava appunto il tamburo rullante quindi in questo caso anche Müller suonasse in piedi ok? perché si trattava di army bands quindi diciamo marching band e quindi si suonava in piedi essendo invece batteristi sia Allan Peley che tanti altri diciamo che stando seduti quel movimento si andava un po' a modificare quindi non poteva essere riportato nello stesso identico modo in cui Müller lo insegnava stando appunto in piedi terzo e non ultima cosa interessante che Jim Krupa dà un consiglio a questo Allan Peley e gli dice proprio di non farsi fagocitare dal pensiero di Müller e di prenderlo solo come uno spunto tecnico di partenza e questo invece è una cosa che così mi andava di dire allora quindi andiamo un attimino a vedere se noi vediamo nella maggior parte dei casi la Müller Technique viene appunto insegnata in questo modo quindi dalla nostra posizione portiamo diciamo il nostro braccio e quindi di conseguenza anche il gomito verso diciamo ore 3 poi ci alziamo a ore 12 siamo in questa posizione questo lo fa vedere anche il grandissimo Giorgio Mayer in Secret Weapon e scendiamo ok le prime due discordanze che ho trovato cos'è? che andando a vedermi invece il grandissimo DVD di Joe Morello Joe Morello invece scherza su questo tipo di movimento tant'è che fa questa cosa e dice proprio che questo movimento è adatto a chi vuole fare aerobica e ci ride sopra questo lo potete andare a vedere e fa invece un esempio molto più utile quindi quello di avere un insetto che volete scrollarvi di dosso e già qui vediamo che è sì questo movimento ma molto più circoscritto quindi diciamo molto più economico ok stessa cosa adesso non mi ricordo Jim Chapin come si approccia ma anche lui fa esattamente più o meno lo stesso lo stesso identico discorso e questo è un primo aspetto importante quindi di diciamo mantenere una sorta di economia nel nostro movimento perché appunto allargarlo in questo modo non ha granché senso o almeno su di me non ce l'ha avuto poi cosa abbiamo un altro aspetto tecnico legato al Müller che è molto importante e che relaziona l'utilizzo di questa tecnica con il polso e nel video di Jim Chapin lo potete vedere e ve lo fa vedere sicuramente meglio di me ovvero sia che se nella maggior parte dei casi vediamo che questo movimento termina in questo modo Jim Chapin ci tiene a specificare sia lui che Joe Morello che il downstroke quello che noi conosciamo come downstroke diciamo nella tecnica tradizionale quindi partendo da una posizione di full stroke e andando a un downstroke ci fermiamo appunto a qualche centimetro dalla pelle nella tecnica Müller il downstroke è questo qui quindi abbiamo down tap up down tap up down tap up down tap up ok che potrà sembrare molto più scomodo inizialmente ma darà la possibilità al polso di poter lavorare ok cosa che invece se noi andiamo a modificarlo in questo modo al di là che non abbiamo tre colpi diciamo più o meno alla stessa intensità o comunque alla stessa dinamica ma andiamo proprio a a modificare il movimento del nostro polso quindi qui è la prima cosa che intendo dire ovvero che la Müller technique in realtà è è molto legata a quello che è il movimento del del polso ovviamente per la sinistra vale lo stesso discorso quindi se il nostro downstroke è questo qui nella Müller technique il downstroke è questo down tap up down tap up down tap up ok quindi possiamo anche farlo all'unisono ok quindi questo cosa ci permette uno di tenere appunto a controllo i nostri diciamo in questo caso il tap e l'app proprio perché dobbiamo usare anche magari mi siedo bene anche il polso ok dall'altra parte invece cosa possiamo dire che sicuramente il sistema di rimanere diciamo giù quindi di non fare questo downstroke in questo modo può essere ottimo per il controllo dei bounce quindi però anche qui stiamo sempre parlando di bounce non stiamo più parlando di diciamo di Müller e quindi a cosa ci possono servire i bounce per esempio se abbiamo delle ghost note dopo i nostri backbeat molto veloci quindi ok quindi sicuramente questo è un ottimo movimento ma se io cerco di fare la Müller in questo modo faccio veramente fatica a controllarla rispetto che al a quest'altra modalità e quindi se ci approcciamo alla Müller facciamo proprio attenzione a questo quindi nostra posizione di partenza down tap up down tap up down tap up quindi dobbiamo usare fondamentalmente tutto la nostra leva quindi l'avambraccio la spalla e in questo caso anche il polso down tap up ok ora invece vi voglio parlare di quello che è legato invece al polso e in questa cosa mi rifaccio alle drumline marching band e quindi al pensiero che Scott Johnson riporta in un video molto bello dove parla sia di Diddle che del perché di questo approccio più legato al polso fondamentalmente lui di che cosa parla in primo luogo dice che la tecnica Möller era più utilizzata nella East Coast americana perché aveva una tradizione più solistica e quindi si suonava di più sui tamburi diciamo rullanti classici e fondamentalmente perché era più comoda la Möller technique perché siccome i rullanti avevano delle pelli che erano molto molto loose quindi che avevano poco rimbalzo sicuramente la Möller era un modo molto comodo per poter ovviare al problema di non avere il rimbalzo questo problema del rimbalzo è una cosa che va poi a influire anche quello che poi lui dirà quindi Scott Johnson di cui parlerà in questo video che potete trovare cercando Scott Johnson Diddle Control sull'interpretazione dei Diddle quindi in quella che sono gli anni 70 delle marching band e drumline americane la West Coast utilizza di più il movimento di polso quindi questa è una prima ragione quindi la West Coast utilizza il polso la East Coast utilizza di più la Möller e perché fondamentalmente la West Coast utilizza di più la tecnica legata allo studio della meccanica dei polsi perché in sezione e questa è una cosa che lui sempre dice in questo video se dobbiamo fare suonare a 10 rullanti lo stesso identico rudiments con la stessa identica intensità e con la stessa identica dinamica è bene che si utilizzi tutti quanti la stessa meccanica quindi se ipoteticamente facessimo usare a 10 persone la Möller technique proprio per il fatto che è una tecnica che va a diciamo che implica l'utilizzo di tutta la nostra leva varia il movimento può variare a seconda della nostra tipologia di fisicità quindi chi ha magari le braccia lunghe ha un determinato movimento chi le ha più corte in un altro quindi per ovviare questo problema quindi del suonare in sezione tutti belli precisi si utilizzava di più l'utilizzo appunto della tecnica legata al polso e quindi come vedetevi anche qui è una ragione ben precisa del fatto che se voi andate a vedere i video drumline per esempio dei Blue Davies o dei Top Seeker Drum Corps o di tanti band drumline fondamentalmente è molto difficile che gli vediate utilizzare questo tipo di movimento cosa che invece per esempio un grandissimo maestro come John Button utilizza ma perché anche lui in effetti è più vicino allo studio del tamburo proprio classico quindi queste sono alcune nozioni che secondo me è importante avere quando ci approcciamo all'utilizzo delle differenti meccaniche ogni esercizio e anche quelli che vedrete successivamente nel prossimo video sono utilizzabili cioè possiamo farli con l'utilizzo di qualsiasi meccanica quindi che voi preferiate usare il polso o che invece preferiate usare un approccio più legato alla Meller Technique ovviamente secondo me è bene sempre approcciarsi in tutti e due i modi per riuscire a stabilire un buon rapporto sia tra una tecnica di esecuzione meccanica e l'altra quindi questa lezione è finita non so quanto ci ho messo ma spero non troppissimo spero vi sia piaciuta ci vediamo quindi nel prossimo video dove proprio parleremo di movimenti e sarà una prima lezione dedicata agli Upstroke ci vediamo nella prossima lezione come sempre se volete andare a visitare il mio sito potete scaricarvi le free lesson del metodo drumline e quindi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi buono studio